Sono settimane ormai che i rifiuti invadono la città e i problemi sembrano aumentare a dismisura. Anche la notte scorsa i residenti di diverse zone, ormai esasperati, hanno deciso in segno di protesta di incendiare diversi cumuli di immondizia. Circa 40 sono stati gli interventi per spegnere le fiamme, divampate sia in centro che in periferia. I vigili del fuoco, seppur stremati dai 250 roghi degli ultimi giorni, sono entrati in azione in molti quartieri, tra cui Corso Pisani, Bonagia, Acqua Santa, la zona di Corso Calatafimi e Villaggio Santa Rosalia. E in molte di queste zone, senza un intervento immediato, alcune auto sarebbero potute andare in fiamme. Ma non solo. Le nubi di fumo si sono levate anche a Brancaccio, via Messina Marina, nelle zone di Viale Michelangelo e in Viale Lazio. Intanto, questo pomeriggio, i dipendenti di Amia e Amia SM torneranno a protestare. Il corteo partirà da Via Lincoln per arrivare a Palazzo delle Aquile. I sindacati chiedono di essere ricevuti dal sindaco per fare chiarezza. Orlando, infatti, aveva parlato di una possibile requisizione di Amia in caso di fallimento per gestire la raccolta. Un'ipotesi giudicata difficile da realizzare dal prefetto di Palermo. Sarebbe più facile la soluzione del fitto di ramo d'azienda al comune, dice Umberto Postiglione. Sempre che i giudici non affidino la gestione al curatore fallimentare, dato che l'azienda svolge un servizio essenziale.